104 pazienti operati all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia nel 2014 per tumori della testa e del collo. Tumori che hanno un'incidenza di circa 50 nuovi casi all'anno ogni 100.000 abitanti. Con l'obiettivo di aiutare e supportare le persone affette da queste patologie che interessano naso, labbra, lingua, cavo orale, ghiandole, salivari, laringe e faringe, nasce la Onlustra Capo e Collo, presentata stamattina in Via Ravona e presieduta da Dorian Cosentino, ex direttore dell'unità operativa di radioterapia dell'azienda Comasca nonché primario e merito. Accompagnare i pazienti nel loro percorso diagnostico e terapeutico, quindi momento per momento, quindi seguiti da tutta un'equip di professionisti che si occupano a 360 gradi della malattia ma non solo della malattia ma anche del paziente che come persona ha tutti i suoi problemi. Altro obiettivo dell'associazione è favorire il reclutamento, l'aggiornamento e la crescita culturale dei componenti del gruppo nonché la diffusione dei risultati via via raggiunti. Ovviamente hanno spiegato i soci, tutto ciò comporta una disponibilità di risorse che nell'azienda ospedaliera, nel servizio sanitario regionale sono in grado di fornire, ecco perché saranno organizzati eventi culturali e non solo per la raccolta fondi. Il primo in calendario è il torneo di golf in programma il 14 ottobre al Golf Club Villa d'Este a Montorfano a partire dalle 15. Durante l'incontro di stamattina è stata presentata anche la brochure Tornare a casa, una guida redatta per i pazienti dell'area maxillofacciale o Torino che hanno subito interventi chirurgici, all'interno della quale sono a disposizione tutti i contatti utili. Questo volumetto che io ho tra le mie mani che si intitola Tornare a casa è un volumetto che raccoglie tutte le informazioni necessarie per tutti i momenti di malattia dei pazienti, con tutti i riferimenti per quanto riguarda gli specialisti a cui rivolgersi. Tra le cause che possono provocare lesioni che nel tempo possono trasformarsi in tumori, fumo, alcol, cattiva igiene orale, protesi dentarie traumatizzanti e una dieta povera di frutta e verdura.